E adesso torniamo a Fano per farvi vedere queste immagini che ci sono arrivate poco fa in redazione le abbiamo appena inserite in scaletta, eccole qua si tratta, è la segnalazione di un telespettatore che ci ha inviato questo video girato in via gentile da Fabriano nella zona degli orti a Fano dalle immagini si vede questo lupo che si aggira un po' impaurito, dire il vero, tra la vegetazione a 400 metri da una spiaggia, probabilmente in cerca di qualcosa da mettere tra i denti l'animale era già stato notato un paio di settimane fa mentre si nascondeva in mezzo all'erba alta poi l'erba, ci hanno detto, è stata tagliata nonostante la presenza di polli, galline e altri animali custoditi dagli anziani del posto il lupo non avrebbe toccato nulla nemmeno il tentativo di catturarlo con delle trappole ha portato il risultato sperato della sua presenza, è stata informata la polizia locale di Fano